buongiorno ragazzi allora direi che abbiamo aspettato abbastanza ce l'ho fatta mi sono tipo mangiato le mani tutta notte però non ho toccato assolutamente niente ho lasciato tutto così come sia il secondo che il primo per cui non c'è molto altro da dire se non spacchettiamoli e vediamo se si può procedere con la cornice o è tutto da buttare nel cesso e ricominciare da capo spacchetto prima la prova quella che non devo usare quella che non voglio cioè quella fatta tutta in ciliegio ma che mi riservo comunque di utilizzare nel caso quella che in ciliegio e faggio sia venuta uno schifo adesso vediamo una cosa però me la voglio dire questa roba della piegatura del legno mi ha intrippato come poche lavorazioni prima quindi anche grazie a uno di voi che citerò e vi dirò quando sarà il momento me la porto avanti ho intenzione di portarla avanti un bel po al di là della cornice vedere che questa roba è fattibile e vari video tecniche studi che ho fatto un po ieri sera un po in nottata stamattina presto fino a 5 minuti fa di la verità mi ha fatto capire che voglio andare avanti voglio studiarla un po più a fondo anche perché mi dà finalmente la possibilità se riesco a padroneggiarla dicevo se riesco a padroneggiarla come si deve quindi dopo tutte le prove del caso parlo di piegatura di legno vera non listelli e colla qualcosa di più sensato di più di più professional passare il termine se riesco a padroneggiare mi può dare la possibilità di fare tutta una serie di cose e non parlo di lavorazioni parlo proprio di mobili che ho in mente da un sacco di tempo primo fra tutti una cosa che forse non viene anche mai fatto vedere il mobile hi fi sogno un mobile moderno e retro che possa contenere lo stereo il lettore dei vinili i vinili i cd le cassette e tutto ciò che ho all'occorrenza proprio come i mobili ai file di una volta però in chiave moderna e già stamattina ero intrippatissimo a non disegnarlo ma ridisegnarlo perché è anni che ce l'ho in testa è anni che voglio farlo un po non avevo lo spazio nell'altra casa un po richiede una tecnica di piegatore di legno che non ho mai affrontato però potrebbe essere il momento per cui dopo le dovute prove risolta la cornice io affronti quel lavoro lì se non fosse il fatto che i miei genitori hanno buttato via il mio vecchio stereo componibile quindi ci sarà da porre rimedi anche quello ma spacchettiamo sta roba dai vediamo cosa succede analisi time analizziamo di tutte e due separatamente partiamo dal più vecchio che ho messo in forma e che ho lasciato sulla dima meno del secondo perché poi l'ho tolto e morsettato da solo allora incollato si è incollato non si è aperto in nessuna delle delle sue spire non ha praticamente fessorizzato niente ma e c'è un ma ma un ma bello grosso non so se vedete ma non ha assolutamente mantenuto la forma questi sono i 90 gradi si è chiuso molto molto di più si è chiuso molto di più perché l'ho smorsettato e quando prende l'ho rimorsettato senza la dima non devo averlo messo nel nella forma corretta ma non solo il fatto di averlo tolto dalla dalla dima e averlo morsettato per i cavoli suoi ha fatto sì che in alcuni punti guardate che bella banana che bella onda non solo si è deformato per così in vari punti da questo lato è ancora più visibile lo vedete che punta su ma in più si è anche torto si è torto in questo senso ecco si vede benissimo si è completamente torto perché a smorsettarlo ho avuto torto le battute quelle belle comunque quindi dondola e non va bene questo al massimo può diventare un boomerang non ne faccio assolutamente niente però se io l'avessi lasciato in forma avessi avuto pazienza o questo fosse stato avrei raggiunto il risultato perché comunque non si è fessurato neanche un po certo penso che il 90 per centro di questo si accolla anche se ne avevo messa molto meno del secondo e probabilmente lo potrei anche salvare anzi ci provo sicuramente dopo perché supponendo il fatto di avere bisogno solamente la curva io potrei tagliare qua e qua non mi sembra torto e potrebbe andare comunque lo porterò a finitura giusto per capire le lavorazioni ma questo è il primo il boomerang è il primo il secondo quello di cui dicoci perché plurale maestatis di cui ci fregava di più perché era quello che io volevo usare poi per fare la cornice con quel nastro con quell'incastro a pettine o come ha detto qualcuno di voi non è un incastro a pettine è un incastro spettinato mi è piaciuta molto anche perché ci siamo ho avuto dei problemi sulla dima perché come vi dicevo ho messo veramente tanta 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 colla ma come un idiota all'aumentare della lunghezza del pezzo del pezzo non ho aumentato il nastro quindi come avevo anticipato ieri mi sei praticamente attaccato al multistrato della dima e tirarlo via è stato un incubo inoltre per quanto la parte sopra fosse completamente asciutta la parte sottostante dove percolava tutta la colla vedete che è ancora completamente bagnata però il pezzo questa è la parte sotto che stava sotto infatti è completamente completamente ancora bagnata c'è tutto il lui è venuto ed è venuto anche la grande perché è perfettamente a parallelo non è non si è torto neanche un po a differenza dell'altro e inoltre ha rispettato perfettamente i 90 gradi ed è rimasto perfettamente a 90 gradi ovviamente è ancora tutto da pulire ci sono tutti i residui le abbondanze questo adesso va prima piallato poi tagliato tutti i cazzi e mazzi l'unico difetto che ha fatto è sulla parte superiore ho delle piccole fessurazioni non è che non si è incollato il legno sono rimasti gli spazi questo essenzialmente ecco per me è successo per due motivi nel caso come questo con l'accostamento dei due è perché non avendo calibrato gli stelli quello più spesso ha fatto gioco forza e ha lasciato lì niente roba che non si possa risolvere con un po di colla e segatura niente di che è veramente cose cose piccole cose accessorie però in alcuni casi qua per esempio era sicuramente tagliato male il pezzo qua sicuramente non sono stati spinti dentro giusto però per me è recuperabile questo qua è recuperabile e utilizzabile come prima prova per cui direi che per essere non la prima facciamo la seconda un altro motivo per cui questo qua è rimasto meno aderente del primo che invece è completamente aderente le campane confermano è che lo spessore del secondo è di gran lunga maggiore il doppio sono tre millimetri e il fatto di aver usato il vapore completamente a cazzo quindi non in una in una in una steam box non c'è così appoggiato sopra manco stessimo facendo i ravioli cinesi non ecco fatto una vera camera del vapore dove fare sta roba ha fatto sì che il ciliegio fosse meno flessibile quindi è andato meno contro anche perché la morsa all'interno del del della dima più di tanto non è che può e c'è c'è una quantità di newton metro in cui possono quelle basse stringere poi non è che ce la fa però per me per me questo è utilizzabile recuperabile soprattutto la cosa che mi piace molto di questo è che non mi aspettavo perché era l'incognita maggiore che avevo a dire la verità non era tanto sulla fessurazione o sul fatto che gli stelle si aprissero o non si incollassero il mio la mia paura più grande era che la parte della curva venisse più cicciona rispetto alla parte dritta perché ovviamente quali stringi in un certo modo qua devi stringere i curvi e il rischio che si apra c'è invece è perfettamente la stessa misura per cui per me risultato raggiunto passatevi il termine risultato raggiunto per la prova che era con i mezzi che ho usato e l'esperienza che non ho quindi raggiunto per così dire però si può usare un'altra cosa che ho imparato da questa esperienza ma soprattutto dalle cose che ho letto e dai vostri consigli è che realizzare questo genere di dima non serve completamente a niente cioè è completamente inutile l'unico pezzo che io avrei potuto realizzare anzi anche più piccolo è questo a me sarebbe bastato di gran lungo avere la parte concava anche non con questi buchi ma solamente la parte rossa per dire guardate la parte rossa solo la parte rossa per morsettare sopra il pezzo con mille clamp e basta la contro curva cioè la parte convessa serve solo se si va a fare una S dove il legno subisce una forza in un senso poi nell'altra allora lo devi morsicare dentro se no non serve un cazzo quindi avrei potuto benissimo utilizzare meno legno e anche il fatto di inchiodarlo su un piano su una curvatura così semplice ad angolo retto è praticamente inutile non serve a niente quindi questa è una roba che ho imparato e che quindi mi tornerà utile perché come vi dicevo adesso finiamo la cornice andiamo in ordine prima si pulisce quello si capisce come portarlo tutto rettificato giusto poi si fanno le altre tre curve che saranno solo faggio e dopo si finisce la cornice ma le prove del curvare del legno non le ho finite qua anzi come vi dicevo stamattina abituatemi perché me lo porto avanti un bel po' magari con alti gradi di complicazione magari c'è sicuramente applicata qualcosa di più grosso importante di una cornice però vado avanti a sperimentare anche perché se questo è il risultato con tanta colla tutti i listelli ed è comunque bello vedersi che figata deve essere un massello da tre centimetri che figata dal punto di vista del risultato ma soprattutto le cose che devi sapere sono completamente diverse da questa lavorazione perché a quel punto devi riuscire a capire quanto devi metterlo a vapore quanto devi lasciarlo a riposo quanto devi chiudere l'angolo oltre i 90 gradi per far sì che una volta asciutto ritorno i 90 gradi quanto ci mette a asciugarsi che senso tagliare l'abbinatore del legno di faccia di costa che ogni tipo di legno reagirà in modo diverso quindi tutta roba che sperimentiamo tutta roba che voglio arrivare a capire e ho già in mente ve lo dicevo prima il progetto giusto per usare parte dei materiali che ho così almeno non compone anche materiali tutti gli stellone di faggio che mi sono avanzati dallo sgabuzzino per sperimentare questa roba quindi dalla settimana prossima secondo me la fabbrica del vapore più che la fabbrica della colla come sto giro ora direi che ho parlato abbastanza devo fare tre cose devo pulire queste fare gli altri triangoli per la cornice triangoli che sono più facili perché sono simili al primo ma solo in faggio quindi sono un po meno complicati da mettere assieme perché non c'è l'incastro spettinato e rifare la dima perché a quel punto farei solo ed esclusivamente la dima che mi serve quella concava che poi concavo con besso concava quella concava ne faccio già tre così almeno sono a posto quindi adesso vedo la cosa partire se tagliarmi tutte le strisce di faggio e partire subito con l'incollaggio di quelli o pulire prima questo penso che pulire prima questo adesso mi faccio una ragionata su come pulirlo bene cioè come arrivare che sia utilizzabile e rettificato dello spessore giusto e poi vediamo come fa però ragazzi oggi grande festa primo perché sono riuscito a fare questa roba almeno per ora sembra che il risultato ci sia adesso vediamo come finisce ma soprattutto perché figata c'è la curvatura del legno si può fare da qui all'infinito una marea di roba perché il modulo i rettangoli le cose so figli ma quando uno inizia introdurre il cerchio le curve le forme armoniche è da pro ci deve arrivare però c'era studiare allora messo a posto un po di fogna come portare questo perfettamente parallelo senza tutte le abbondanze i cazzi e mazzi insomma come pulirlo prendo l'altro in mano che mi è un po più comodo la teoria vorrebbe prima pialla e poi squadratrice una volta portato un lato una piallatura insomma una piallatura a spessore e poi dopo il poi dopo la squadratrice una volta con un lato dritto sulla sulla guida il problema è che già con quello piccolo a guardar bene va beh quello piccolo ancora ancora si riesce a piallare quello piccolo ancora poter riuscire a piallarlo ma quello grande non esiste neanche facendogli fare il giro così a banana e piallare un pezzo alla volta non posso perché vado ad appoggiarmi qua praticamente o all'altro piano che è più in alto del necessario e poi c'ho questo pezzo qua che per quanto io possa alzarlo non riesco a piallarlo e non è una gran cosa secondo me mi sa che farò semplicemente tutto alla squadratrice col mio supporto lo zancherò qua farò tutta una passata alzerò la lama al più possibile poi farò l'altro lato e poi una volta che ho questo lato perfettamente dritto posso andare in battuta e allora fare il taglio di qua siccome però è una roba un po delicatina mi piacerebbe non tagliare ancora via l'eccesso per capire bene come farlo quindi mi piacerebbe farlo direi che se è anche un po diverso per testare la fattibilità proverò prima con questo che tanto anche se si dispa è già una banana del cazzo può anche rimanere così perché lì proprio io non ce la faccio cioè vi faccio vedere cioè io a fare questo ho proprio un problema aggettivo che arriva ad un certo punto curvo e anche volendo curvare di più questo alzando questa non riesco proprio andagli dentro insomma non posso fare una prova vediamo se non perdo le dita non riesco troppo di per le dita magari smollando questa e alzandola il più possibile ma non mi passa sotto non riesco a fare sì no riesco a fare il giro sotto di qua non lo so non lo so non so se farò di qua o direttamente di là c'ho l'ansia non lo so perché poi io batto contro lì vabbè che il piano è più alto dicevo che è vero che il piano della pialla in uscita è più alto del del telaio non lo so ragazzi non so bene come farlo poi qua vabbè qua sono quasi un millimetro poi dovrei farlo a passaggi molto più sottili non so ma molto probabilmente non userò la pialla è un po rischioso il giro tocco da tutte le parti e non adesso poi c'è l'ansia di sfar tutto cioè io vorrei fare una prova sulla squadrice che è una lavorazione che mi sento un po più confidente su quello venuto a banana banana in tutti i sensi babà che roba e poi vediamo allora provato sulla pialla sul pezzo quello di chiamiamolo la prova di scarto è piallato si è piallato però era talmente torto che pialla che tiri pialla è venuto praticamente così era talmente tanto deformato sulla sua asse che per portarlo a pari l'ho ridotto così chi se ne frega perché tanto è lo scarto però l'effetto finale del mille righe ma per me tanta roba ora il problema è l'altro l'altro non c'è proprio verso che io lo pialli a meno che di non tagliare via parte delle abbondanze che non vorrei tagliare quindi proverò come dicevo al banco sega se si rovina si rovina alla fine chi non rischia non rosca che bel detto no alla fine una prova è una prova quindi intanto vale che io provi ok un po' azzardato come metodo rispetto alla pialla ma io purtroppo non c'è nessun modo perché io levi dalle palle questo posso alzarlo ma al massimo di un 3 centimetri non posso alzarlo tutto perché c'è una molla e non mi fido in alcun modo a smontarla non vorrei fosse una molla messa in pressione in fabbrica perché la macchina è arrivata con quello quindi non la smonto nel time lapse avete visto il passaggio quello col supporto jig l'altro quando non mi è partito il timelapse ma sinceramente lo più concentrato sul lavoro l'ho fatto invece con la guida per avere la sicurezza di un parallelismo e tutto lo spessore uguale uguale e infatti non ho ottenuto lo spessore di 30 che volevo però è 29 qua 29 qua 29 qua e 29 anche dall'altro lato e soprattutto è perfettamente a 90 gradi in tutto adesso colla a parte in tutte le sue parti sia davanti che dietro quindi secondo me risultato raggiunto si è un po' annullata la differenza tra ciliegia e faggio ma confido che dopo la carteggiata una volta che avrò dato la finitura salterà fuori di più però nonostante tutto per me tanta tanta roba questo lato è praticamente tutto perfetto l'altro lato invece ha qualche magagnina da sistemare con colla e segatura che è il prossimo lavoro che farò questo qua separato perché invece non è incollato perché tanto lo devo tagliare prima quindi direi grande soddisfazione perché con qualche imprecisione dovuto al fatto che la prima volta è venuto per cui direi di procedere così non so se farò gli altri tre lati sempre curvi gli altri tre angoli curvi perché magari sta bene anche tre lati a spigolo e uno solo curvo o magari gli altri tre lati li rimando a settimana prossima quando provo a curvare invece il pezzo interno non lo so vediamo allora io direi che tappo ste fregnacce e poi tutta una bella carteggiata soprattutto sulla parte esterna che è piena di colla e sulla parte interna carteggiata con molta molta attenzione perché non è che devo fare degli abballamenti anzi al prossimo giro se dovessi rifarlo nella parte interna scotch così almeno gli accumuli folli di scotch però mi piace il 90 gradi sembra che lo stia mantenendo gli accumuli folli di colla stanno venendo qua è a 90 gradi perfettamente il banco so essere perfettamente a 90 gradi per cui c'è dai tappiamo ste fregnacce qua allora le magagne sono state tappate con colla e polvere di ciliegio anche perché erano quasi tutte sul ciliegio si vedono ancora qualche imperfezione ovviamente ma ripeto è la prima volta ora mentre aspetto che asciughi prima di dargli la carteggiata devo capire cosa fare col design perché a questo punto c'è da capire come proseguire in base a cosa voglio ottenere questo è il primo design che avevo ipotizzato partendo dal presupposto che l'unica curva in in ciliegio sarà quella in alto a destra e che sicuramente i latri dritti non saranno a mille righe ma saranno interi a meno che non decida di fare la follia e sfilarmi tutto il tavolone da tre metri che ce l'ha tutto a fettine da sei da tre millimetri per poi assemblarle ma non penso di essere così cretino nonostante tutto cioè penso di poter sopportare il fatto che qui sia massello intero e qui sia regato e qui sia regato c'era a capire se fare questi tre lati ovviamente sempre in faggio perché quella è l'unica costante un solo lato in ciliegio le campane confermano che giusto così quindi c'è da scegliere se fare tre lati 33 angoli curvi ancora in faggio oppure fare solamente c'è tre angoli normali è solamente un angolo in faggio oppure un angolo scusate un angolo in ciliegio oppure un angolo in faggio un angolo in faggio un in ciliegio e due lati normali allora la regola che applico abitualmente una costante una variante quindi costante di forma dei quattro angoli variante di essenza qui è già più un re belotte diciamo che questa con i tre spigoli proprio non mi piace al massimo questa con questa forma un po più strana però ma c'è dire che a far questa dovrei fare solamente un altro angolo curvo mentre a proseguire col disegno originale dovrei farne altri tre quindi una dima ce l'ho per far prima creare altre due dime solamente la parte che abbiamo detto prima quindi creare altre due dime tagliare tutte le strisce mettere in incollaggio e aspettare fino a domani e poi rifare tutto la di rifillatura che ho fatto stamattina sono portato a fare il piano originale quindi tutte e quattro gli angoli curvi di cui tre in faggio e uno solo in ciliegio sui lati dritti listellare o intero ci penso dopo anche perché ripeto mi piace molto l'idea della solita regola una costante una variante costante di forma variante di colore costante di colore variante di forma insomma questo giro qua la menata è non tanto tagliare listelli e incollarli ma creare mille dime devo scomodare la cnc e sapete quanto io odio usare la cnc di tempi d'attesa per cui direi che sono le quattro faccio un caffè e ci penso un attimo ma tanto andrà che faccio quello che devo se it love e federico avete perfettamente ragione sono un coglione cioè non avete detto che sono un coglione però sottointesa era quello perché devi fare la cnc ne hai già una sgrossa la forma e poi vai di fresa con l'anello a copiare sì vero e non ci penso mai certe cose non ci penso però c'è proprio non non ci penso adesso vedo sono una fresa abbastanza alta alta il giusto per fare per loro lì però c'è non ci penso mai mai grazie musica eccoli qua non fosse stato per voi ero ancora lì a fissare la cnc col gelato in mano ma i gelati li ho finiti questi li ho fatti i rotondi per non stare appunto a fare anche con l'anello a copiare quelli dentro ho aggiunto questi due perché non userò la contro dima a sto giro e li ho fatti tutte e tre così posso fare i triangoli tutti ora devo tagliare tutti i listelli che vi risparmio perché tanto è lavoro inutile al cazzo quella come quello di ieri non sto neanche a fare un timelapse mentre io taglio gli listelli voi pensate bene se qualcuno di voi sabato 17 cioè dopo domani vuole venire al metadei a cittadella di padova come vi ho già detto è un expo dei marchi più importanti quali festo besei 12 wing cioè ce ne sono veramente tantissimi è gratuito su iscrizione e vi dico di pensarci bene perché io ho ancora un posto in macchina quindi come avevo detto avrei cercato di organizzare una macchinata mi avanza ancora un posto basta iscriversi al link qua sotto è indicata come una cosa per professionisti però penso che siano piuttosto di spanna larga su questo se partite da milano dintorni e decide decidete di venire iscrivervi fatemi un fischio che vi unisco alla chat che abbiamo fatto per la macchinata e organizziamo perché l'orario non abbiamo ancora organizzato però comunque partiremo in mattinata e per tutti i malpensanti esseri mitologici corpo da uomo e testa di cazzo che le altre due volte che ho già parlato di questo evento mi hanno scritto stai facendo troppe sponsorizzazioni questa non è una sponsorizzazione non sono stato pagato per parlare di questo evento mi hanno invitato a questo evento o meglio mi hanno segnalato questo evento io ho deciso di andarci mi sembrava una cosa carina per una volta si possono vedere tanti stand di tanti marchi diversi ho detto ma perché non fare una macchinata avevo detto che sarei avrei cercato di essere più sociale oltre che social e quindi ho detto perché no stendiamo l'invito perché come non ero venuto a conoscenza io magari non è venuto a conoscenza neanche qualcun altro se fosse stata una sponsorizzata avrei dovuto dichiararlo con l'adesivo ad per forza ve l'avrei detto perché non ho problemi e comunque non ci sarebbe stato niente di male fosse stata una sponsorizzazione sponsorizzazione che non è perché lo sapete io sponsorizzo solo detersivi per cessi detto questo ora mi taglio gli stelli e poi li assemblo punto e poi va in asciugatura sfidati le stelle posso metterli in morsa mi sono dimenticato che però vanno prima bagnati bisogna ritirare fuori il ciccino che fa caldo e tutte le menate brutte notizie però non posso fare tutti i pezzi diritti così a listellare perché se non ho sbagliato i conti e non ho sbagliato i conti non ho abbastanza materiale mi sa di no per farlo gli stellare per farlo interi sì però ci possiamo dire ora incollo con la roba prima la grande incombenza della mia vita la pisciatura dei cani vado a pisciare i cani e torno vorrei per stasera almeno messo in morsa questi così stanotte non li tocco e non li tocco non li tocco veramente e finire almeno quello dagli una bella levigata e vedere qual è il reale effetto finale di quello lì ma ci sono i cani da pisciare dai andiamo andiamo si eccita tutto uh che faticaccia allora incollati tutti io spero ragazzi spero vengano perché sono stato un po' stronzo sono stato un po' stronzo perché per il tutto questo è un legno diverso quindi reagisce in modo diverso e al vapore e io non avevo fatto una prova in più ho detto vabbè ho un po' più di tempo e li tengo un po' più sotto il vapore li ho tenuti più sotto il vapore e qualcuno si è torto per il senso della lunghezza poi come se non bastasse questo giro non ho fatto la contro dima e quindi è risultato molto più difficile perché la contro dima schiacciando solamente quello centrale mi portava già i laterali più o meno a registro e quindi era più facile insomma per farla breve mi sono dimenticato per un attimo di essere un programmatore non adottato il metodo scientifico quindi quando procederò invece con tutte le altre prove di piegatura del legno massello non listellare metodo un po' più scientifico eh ad ogni modo sono qua impressione tutti con i loro morsetti che stanno assieme due cose sono certe primo metodo più scientifico secondo beh se qua serve un'altra fornitura di morsetti perché se devo curvare il legno me ne servono molti molti di più perché li ho usati praticamente tutti non ne ho praticamente più per fortuna per ora non devo incollare niente domani vediamo come sono messi mal che vada se non ne viene uno faccio la versione con due spicoli curvi se non ne vengono tre se non ne vengono due ne faccio quella con due solo spicoli curvi insomma ho abbastanza margine magari poi adesso che levico questo lo rovino e quindi faccio una cornice banalissima e via andare no a parte le cazzate allora prima di chiudere voglio arrivare al punto che avevo detto quindi levigatura e pulizia di questo che quasi non si vede metto a posto un attimo il bordello qua e mi metto a levigare questo che devo fissarlo un po' in qualche modo ma per fortuna di questo mi viene d'aiuto il pannellozzo del banco la guerra allora eccolo qua passato tutto con una 180 via ogni residuo di colla e l'unica pecca è che si è persa quasi completamente la differenza tra i due legni posso supporre o sperare essendo uno ciliegio quindi scuro e l'alto faggio che data la finitura venga fuori cioè più che posso supporre posso sperare anticipo la stranzata delle 20 prima che qualcuno me lo dica come ogni santo progetto io arrotonderei un po gli spigoli così da evitare scheggiature sì ma non in questo momento quando la cornice sarà intera così sono sicuro che venga tutto uguale però mi piace mi piace molto è venuto dai mi piace mi piace ci sto poi è perfettamente 90 gradi domani vediamo gli altri e poi capiamo i dritti e i rovesci poi bisogna capire anche il pannello pannello per lo specchio e come fissarlo in modo che si possa togliere cambiare lo specchio insomma c'è anche quella parte lì che non ho guardato mi piace proprio dai vengo un drone anche vuol dire che è venuto proprio giusto giusto sulla riuscita e sto capra sempre in mezzo alle palle sulla riuscita di quelli ho dei seri dubbi ragazzi eh seri seri dubbi e non posso neanche rifarli se non mi basta la tavola per fare i dritti basta stasera esattamente come l'altro venerdì c'è a cena l'amica vegana di Anna che è venuta prima e mi ha chiesto non è che riesce ad aggiustarmi l'unico trapano che ho a domani allora su sì lo so ho detto ciliegio guani su consiglio di alcuni di voi mi sono bagnato un dito e ho bagnato le due essenze per vedere il cambio di colore è la prova più immediata che posso fare per andare alla finitura come mi ha detto voi e ciliegio faggio manco per il cazzo la differenza e vabbè a